Oggi come consuetudine tutti gli anni festeggiamo la giornata di Puliamo il Mondo, lo facciamo insieme ai ragazzi della nostra scuola media qui nel nostro bellissimo giardino dei Tigli ed è l'occasione per incontrare i ragazzi per parlare di ambiente insieme a Legambiente e raccontare gli impegni che il Comune ma soprattutto i ragazzi insieme al Comune devono fare per cercare di migliorare la nostra situazione e l'ambiente. Quest'anno per fortuna possiamo uscire e pulire la nostra San Nazaro, allora il senso di questa iniziativa è quello di ricordarci che noi viviamo in una città, nella città viviamo nel mondo e il mondo ha bisogno di essere curato e di essere pulito e noi dobbiamo avere rispetto come abbiamo rispetto per la nostra casa, per le nostre cose, così dobbiamo avere rispetto per il mondo perché il mondo è la nostra casa. Grazie